direttamente parte direttamente via non perdiamo tempo maciniamo maciniamo abbiamo iniziato molto tardi sì sì che ricordiamo abbiamo dovuto aspettare un po per la riusura dei giocatori ho dovuto aspettare praticamente 8 partecipanti praticamente sì e uno non si è presentato l'intero torneo dovevamo aspettare owner dall'austria non si è presentato probabilmente si sta o si è distrutto ieri sera dopo il torneo 2020 oppure si sta correndo Roma vediamo lasciate il commento però non divaghiamo che vedo un terumi scatenato quando stanta non vuoi stare lì all'angolo contro una cosa uno dei vantaggi di terumi è sicuramente che ottiene molto velocemente la barra metro se riesce a fare le combo e quindi può essere veramente spaventoso con le rabbis per ora tj è all'attacco johnny mi ha parlato che potrebbe fare una marvelata e ovvero non mi ha detto niente a riguardo che cosa farà però la chiamo marvelata diciamo che per adesso non ne ha mostrato niente scuola esatto vediamo cosa sapremo sapremo quando la farà perché si alzerà e urlerà almeno questo è quello che ha annunciato vediamo lo sappiamo lo sappiamo ok 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 va bene con il knockdown il roll viene preso intanto la chat sta scherzando sul nickname johnny monoton e il 80s vibe la sham version of billy the kid ok ok let's see ti ha preso il primo match? non lo so vediamo un attimo e vediamo andresi vi blame the chat for this we blame the chat for this extremely monsters always always blame the chat oh is stuff is she done the bad situation yes and let's see pensavo a un burst istantaneo per evitare di fargli force o no niente, adesso è il mio burst e ha guadagnato l'angolo, buon burst si, ottimo l'ha pescato bene qui, si, si l'ha pescato molto bene, per cercare di riuscire c'è riuscito, di poco tra l'altro, perché l'aveva colpito ok c'è un po' di rispetto adesso, sono tutti andati verso indietro, però siamo ritornati più l'aggressivo in questo momento brutta decisione niente, gioco raffinato qua intanto abbiamo l'intrusione di Shippai, saluta da Chachi ciao, molto timida questa è un saluto se non sei chi vince, ci fai si conosce troppo bene, e noi si conosce la sua ma soprattutto che ha vinto prima il primo pezzo ma io non sei niente, sto seguendo ancora qui tutti che non, a nessuno gliene frega di Blaine letteralmente qui la true viene preso oh, buono, eh, questo è il mio burst il burst è seguito dopo viene preso eh niente un po' di scramble eh sì, è finita e vince il 2-1 eh non so, frate, 1-1 1-1 1-1 ok, ci siamo persi tutto il giorno ci siamo persi l'ultima parte dell'ora ci siamo persi il risultato per leggere la chat, ragazzi, scusate ok, let's see ok 1-1 oh, we're changing to English? no oh, ok è tutto certo, eh eh, it's the same to me so ok, let's chat to the big news today we changed the subtitles instantly changed the dub ok from Italian to English and we have ok nice counter into a conversion knockdown into the corner corner pressure? good pressure gets opened up rapid ok no, he dropped the combo but still with all those American resets ha 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 oh, oh, almost nice one from Johnny double overhead pressure oh and takes the first round nice run nice run from Johnny ok ok TJ looking a little bit scary with that back dash but still, he got the first catch the mash pressure for a good block ok getting more meter gets hit oh the jabs are an optimal option I guess right now oh nice cross up no conversion no conversion oh counter the DP ok instant burst no conversion pressure dead angle ok nice block good defense good defense from TJ's only ok conversion let's see oh he tried to finish it but couldn't quite do it and now he does ok match point match point for both yeah getting the first blood Johnny ok with pressure oh unsafe gets hit but doesn't finish the combo wrapping gets wrapped ok oh 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 over head yeah let's see not not ok oh i don't know what noise guys ok it's opened up yes let's see and 2 oh 1 not over yet not over yet not over yet not over until it's over yeah oh dead angle let's see another dead angle not sure about that decision burst ok had to do it let's see it is super and Johnny takes it it's over down to the wire awesome he takes schiacchi sempre because it's training